Una giornata particolare qui all'Ippodromo Paolo VI, un connubio tra Ippica e Beneficenza, ovvero l'Associazione del Bambino Talassemico e Consulta Nazionale, quest'oggi a Taranto, un'occasione per solidarietà, spettacolo e Ippica a fare da contorno a questa serata questo premio dei personaggi, un invito sul miglio in cui saranno impegnati otto personaggi dello spettacolo, della cultura, giornalisti e uomini dello sport. Col numero uno, Peterson Russ, interpretato da Tiziano Bombacci che sostituisce Petra Magoni che all'ultimo momento è dato una defezione in quanto è impegnato con un programma della RAI. Col numero due, Paul Newman, con Carlo Pelegatti della redazione sportiva di Mediaset Italia 1. Col numero tre, Rambo San, Enrico Albertosi, ex campione del mondo, portiere della Nazionale. Col numero quattro, Pericre Egral, con Nicola Calatoplos, capo redazione di Mediaset Sportiva. Col numero cinque, Scoffera, con Insulchi Gianni Bella, cantautore Gianni Bella. Col numero sei, Romina Ecci, con Insediolo Franco Ligas, redattore della testata sportiva di Italia 1. Con numero sette, Hoi Blu, con Walter Cevoli, ex pugile, campione mondiale dei Mediomassimi. Con numero otto, Rodney Ho, con Insulchi Alberto Foa, giornalista di Milano, della testata del Corriere della Sera. Ecco che i cavalli sono stati chiamati in partenza e pian piano si stanno avviando dietro le ali della macchina. Macchina che ha preso gradatamente il via con i concorrenti che si stanno allineando dietro le ali dello stesso mezzo meccanico. Quindi, premio dei personaggi, sesta corsa, Peterson Russ con Tiziano Bombacci, Paul Newman, Carlo Pellegatti, Rambo San Enrico Albertosi, Periche Egral, Nicola Calatopulos, Scoffera, Gianni Bella, Romina Ecci, Franco Ligas, Hoi Blu, Walter Cevoli, Ho Rodney Ho, Alberto Foa. Macchina che accelera e stacca in questo istante ed in vantaggio si porta il numero tre di Rambo San con in corda Peterson Russ, poi a largo Periche Egral, quindi Romina Ecci e via via tutti gli altri con in coda il numero otto di Rodney Ho che ha rotto in partenza. Primi 400 metri con Rambo San leader nei confronti di Peterson Russ, mentre in fuori è rimasto Periche Egral che precede il numero due di Paul Newman, quindi Peterson Russ, Hoi Blu, il numero sei di Romina Ecci, il numero otto di Rodney Haccao che ha recuperato e gli altri. Siamo all'apice della penultima piegata con Rambo San che è sempre al comando nei confronti di Paul Newman che è seguito da Peterson Russ e ha i suoi fianchi Periche Egral, mentre si migliora a largo anche Romina Ecci e lungo la corda trova spazio anche Hoi Blu. Mancano 600 metri alla conclusione con Rambo San che è in difficoltà superato dal numero uno di Peterson Russ che affronta in vantaggio l'ultima curva con Rambo San sempre in seconda posizione, poi Paul Newman che ha sbagliato Romina Ecci e il numero cinque di Scoffera si entra in retta di arrivo in questo momento, ovvero quando mancano 200 metri alla conclusione con Peterson Russ che va a staccare nel tratto conclusivo, mentre per il secondo la spunta il numero tre di Rambo San nei confronti di Hoi Blu e quarto il numero otto di Rodney Haccao.